Eccola qua, Aprilia RSV4R, è l'ultima nata di casa anuale e questa amplia la gamma della RSV4, è la sorella quasi gemella della factory, ha molte innovazioni tecnologiche a partire dal motore a V stretta di 65 gradi, ha la pinza radiale Brembo monoblocco, le sospensioni regolabili in tante situazioni, per tanti diversi fondi stradali e poi il telaio, il telaio ricalca praticamente la fotocopia di quello che usiamo noi nelle gare di mondiale superbike, la ciclistica è una vera moto da corsa, proprio con quella che io ho vinto il Gran Penno di Brno nel 2009 quest'anno. E poi cosa dire, è una moto che è molto geniale, credo che ricalchi l'estro e la fantasia italiana, una vera moto per motociclisti veri, io ve la consiglio, parola di Max Viaggi.